In occasione del 75esimo anniversario della liberazione del nazifascismo voglio parlarvi della battaglia di Bosco Martese. Questa fu la prima battaglia in campo aperto della resistenza italiana. La battaglia si svolse a circa 30 chilometri da Teramo, sui monti della Lada in Abruzzo, a 1300 metri di altitudine il 25 settembre del 1943. E' qui che gruppi di partigiani teramani decisero di organizzare la difesa in caso di attacco da parte dei nazisti. Chi sono questi partigiani? Beh, tra di essi troviamo sicuramente i militari che dalle caserme della città decisero di arroccarsi al Bosco per poter meglio difendersi in caso di arrivo dei tedeschi. C'è da dire che superato il primo momento di sbandamento e anche le informazioni contraddittorie che arrivavano in città se arrendersi o difendersi in caso di arrivo dei nazisti, alcuni di essi prendono in mano la situazione e decidero di portare armi, munizione e vettovagliamento al Bosco per organizzare il campo partigiano. Sieme a loro troviamo anche numerosi civili. In questo caso ad organizzare l'andata verso il Bosco fu un comitato antifascista composto appunto da vecchi oppositori al regime ma anche di giovani che si avvicinano a questo comitato e in particolare per le figure, le altre figure morale e culturali che lo capitanavano. in particolare il dottor Mario Capuani azionista e Ercole Vincenzo Orsini per i comunisti. Inoltre si concentrano al Bosco anche numerosi stranieri. Sono ex prigionieri di guerra fuggiti dai campi di concentramento dopo l'8 settembre del 43. Il gruppo più numeroso è quello degli slavi ma tantissimi sono i britannici oltre agli inglesi, neozelandesi, australiani e persino un indiano. Il comando del campo partigiano sarà affidato al capitano dei carabinieri Ettore Bianco. Al Bosco dal 19 al 25 settembre c'è un andirivieni di cittadini terramani che vi si recano. Si calcola che almeno un migliaio siano arrivati al Bosco. Naturalmente non tutti rimarranno ad affrontare lo scontro del 25 settembre ma ognuno cercherà di portare qualcosa, molte donne magari anche solo un sostegno morale ma tante anche da mangiare ai propri uomini, molti anche curiosi che poi naturalmente furono mandati via, in particolare dei giovani non in grado di utilizzare le armi. La mattina del 25 settembre del 43 arriva la colonna tedesca nella città di Teramo, probabilmente chiamata dall'ex console della milizia fascista Aristide di Castiglione. I tedeschi furono informati di come i partigiani avevano organizzato la difesa da una spia fascista e infatti risalendo per la strada che arriva fino al Bosco della Martesa circondarono subito l'avamposto che era stato costituito dai partigiani a un vecchio mulino, il mulino dei Jacobis e catturarono sette partigiani e li portarono con loro mentre risalivano appunto verso il monte. Prima di arrivare alle pendici dove c'è il Bosco della Martesa decisero appunto sapendo i tedeschi che da lì a poco avrebbero trovato il campo partigiano di mandare in avascoperta una colonna comandata dal maggiore Hartmann. Questa colonna fu quella che si scontrò effettivamente con i partigiani che nel frattempo avevano organizzato la difesa del Bosco ed ebbero la peggio. Almeno una cinquantina di essi furono uccisi, distrutta l'intera colonna e perfino il comandante Hartmann fatto prigioniero. Il resto del gruppo della colonna tedesca cercò di rispondere al fuoco ma quando sentirono il rombo del cannone che i militari erano riusciti a puntare fin sopra al Bosco, dopo due ore e mezza di battaglia decisero di indietreggiare. Prima però fucilarono i sette prigionieri partigiani che avevano catturato al mulino, cinque di essi furono uccisi subito, altri due invece miracolosamente riuscirono a salvarsi. Al campo partigiano dopo lo scontro c'è subito il sentore che i tedeschi sarebbero tornati all'indomani con sicuramente maggiori forze e quindi anche se il suggerimento degli più organizzati e consapevoli militari jugoslavi si decide di organizzare una resistenza fatta per piccole bande e quindi il campo partigiano si scioglie e effettivamente il giorno dopo arrivano genti forze tedesche che bombardano per diverse ore il bosco e fino al 5 ottobre danno vita a una serie di rastrellamenti con diverse stragi che coinvolgeranno anche dei civili accusati di aver dato ospitalità o di aver partecipato all'azione partigiana. il 27 sarà catturato persino il dottor Capuani che sarà reso nella sua casa di Torricella sicura sicuramente dopo una spiata fascista portato a Boscomartese e lì trucidato dai tedeschi. Ecco questa fiammata della resistenza abruzzese darà vita poi come dicevamo a un gruppo di bande che combatterà per vari mesi fino alla liberazione dell'intera zona nel giugno del 44. Un esempio fulgido di scelta morale, di scelta armata in quel caso, di rimpossessarsi della propria territorialità e in particolare di cercare di riprendersi in mano appunto la libertà. È per questo che lo stesso Ferruccio Parri dichiarò che questa era non solo la prima battaglia in campo aperto ma la battaglia a cui tutti i partigiani italiani dovevano rendere onore.